Le politiche comunitarie tra la programmazione 2007-2013 e 2014-2020 sono state valutate dalla quinta commissione consigliare assieme all'assessore Francesco Peroni. A inetrodurre i lavori è stato il presidente del Consiglio regionale, Franco Jacopo, secondo cui avere ben chiara la situazione e la fondamentale importanza e si vuole traguardare dalla prossima programmazione definendo gli obiettivi strategici che saranno contenuti in uno specifico provvedimento che il Consiglio sarà chiamato ad approvare entro la prossima estate che caratterizzerà i prossimi cinque anni di legislatura. Peroni ha sottolineato alcune criticità sugli aspetti gestionali del periodo 2007-2013 di cui dobbiamo far tesoro per orientare meglio le nostre politiche 2014-2020, periodo che si annuncia meno ricco di risorse derivanti. Così dovremmo mettere in massimo rigore e la massima attenzione per ottenere risultati positivi. L'esperto tecnico è fortemente correlato alla scelta politica, se da un lato quindi è bene avere sensibilità, creatività, fantasia, dall'altro è indispensabile conoscere soprattutto le regole per indirizzare l'energia verso obiettivi che possono essere raggiunti. Conclusa la relazione è stato fornito ai consiglieri materiale tecnico del quale sono stati evidenziati i nodi più significativi.